bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono favij oggi è domenica quindi siamo su happyweez livello a caso e non è domenica favij e non siamo neanche su happyweez ma fa lo stesso grazie mille della intro andrea camperax grassi ci chiede mito numero 1 il mirino laser integrato della rx180 è visibile anche agli altri giocatori? quindi noi abbiamo un fucile che spara raggi laser vediamo noi lo vediamo il fucile vediamo se i nostri avversari ce lo fanno vedere ma il loro è invisibile però loro lo vedono si esatto alla fine battlefield ci fa sempre una sega a noi coddari no? esatto è la solita storia che funziona certe cose è un bastille gabriel ci domanda lo scudo antissommossa ci protegge da un cane da guardia? ebbene si solito mito del cane da guardia solito mito il cane da guardia è il migliore amico dei commenti ma il peggior nemico dei nostri commentatori perchè tutti lo vogliono morire o vedere soffrire comunque si il cane lo scudo ci protegge dal cane e vabbè visto che ci siamo proviamo anche a ucciderlo ucciderlo notiamo che ovviamente non lo one shotate ci vogliono non so 7-8 colpi 6-7 colpi si più o meno la vita di un juggernaut di quelli corazzati con gli scudi ma fa lo stesso è un cane confirmed mito numero 3 ce la domanda zanzonite99 se mi attacco una semtex sullo scudo antissommossa posso sopravvivere scambiando lo scudo con un'arma presa da terra? ebbene si il solito trick che ci chiedete molte volte noi vi facciamo vedere che non succede sempre probabilmente si perchè il primo tentativo è fallito ma vedete che la semtex si va attaccata al corpo ci riproviamo adesso io correrò come se non ci fosse un domani ebbene si la semtex si rimane attaccata allo scudo quindi voi cambiate lo scudo lo mettete per terra la semtex si esplode per terra figata e gli altri con lo fiduti non succedeva questo confirmed ai bob ci domanda posso essere ucciso mentre vengo teletransportato quando faccio punte in blitz quindi è questione di tempismo uccidere una persona mentre viene teletransportato esatto e guardate come ci è venuto bene senza cioè modesti a parte lui ha fatto spawn ha fatto punto io l'ho ucciso nel mentre quindi ehi ha fatto punto ma sei morto tipo colpi nell'altra dimensione funzionano vabbè mito numero 5 fix ray ci domanda se sono sott'acqua posso uccidere un nemico accoltellandolo perchè fare sub pacifista esatto facciamo sub terrorista sub terrorista esatto organizzare un harlem shakes sott'acqua si si può uccidere anche sott'acqua sparare lo sapevamo a coltellare magari c'era ancora questo dubbio che beh comunque non si può ancora respirare sott'acqua esatto basta in fright è possibile essere uccisi dal carrello mobile attivato quando si apre la porta segreta? questo pasta che ne sa un sacco di call of duty eh madonna madonna allora avete presente questa sorta di affare per la malta secondo me tipo per fare le colate di cemento armato ecco se noi ci sdraiamo qua e attiviamo marchi ingenio tipo lo blocchiamo cioè nel senso ci lo blocchiamo ci sposta ma si blocca appena ci spostiamo ci sblocca marchi ingenio però non ha senso sta cosa esatto perchè non dovrebbe spiattellarci per bene delle ruote tipo da un metro di diametro che ci passano sopra ok comunque è un bel modo per trovare la gente che sta qua per farci una bella area di camper che adesso uccido camper camper che muore eh basteed mito numero 7 l'ultimo mito l'angolo di cappa ci domanda riesco a scappare da un cane da guardia con l'ausilio del perk maratone agilità attenzione che italiano ausilio questo camper ci caccia dopo i suoi voti da giornalista comunque questo cane la gente non avrà capito un cazzo vabbè io ho capito comunque cioè ci si scappa dal cane io non pensavo io mi fermo anche ad aspettarlo eh però il cane non mi prende il cane deve rifiatare poveretto un po' down quel cane ma comunque vedete che con l'ausilio dei perk maratone agilità voi correte verso l'infinita e oltre anche se il cane vede le scorciatoie a un certo punto lo supererò pure io il cane quindi io penso che si potesse cavare solamente con il maniac invece anche così è proprio il cane ciao cane ciao bello ma seconda visuale perchè noi non lasciamo mai a dito a dubbi non è che avevamo i cheat prima non lasciamo niente al caso vi facciamo vedere che hey quel cane è obeso hey io sono a mira con la pistola che fa paura ma secondo me è culpa di quel giubbottolino che hai indosso perchè su black ops 1 erano più veloci i cani si su black ops 1 ti martoriavano comunque confirmed ok l'episodio ottavo è finito ebbene si vi ricordo che a 3000 like cominciamo a preparare il prossimo episodio ok commentate col mito che volete sfatare condividete su facebook eeeh è finita qua bella dal camper e bella da spawn a bella da